A già ritornerà a riunirsi giovedì il Consiglio Comunale e chissà se sarà la volta buona per i tanti riconoscimenti di debiti fuori bilancio all'ordine del giorno che si trascinano da settimane nel civico consesso. Giovedì l'assenza dei dirigenti ha costretto al rinvio dopo la bagarre nata al termine dell'attività ispettiva con l'opposizione che ha lasciato l'aula. Giovedì comunque in Consiglio dovrebbero essere discusse le due proposte esitate dalla seconda commissione presieduta da Rosi Finocchiaro. Quella sul regolamento del mercato settimanale e la delibera sulla riduzione degli stalli in attesa che Giunta e Consiglio Comunale portino a compimento l'atteso spostamento del sito della fiera.